ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale io sono riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologia spiegata in modo semplice e comprensibile per tutti nel video di oggi come avrete intuito andremo a provare insieme una bicicletta elettrica veramente spettacolare qualcosa di mostruoso che non avevo mai provato in vita mia e non parlo soltanto delle biciclette elettriche che solitamente mi mandano per una recensione ma anche di quelle che noleggio tre o quattro volte all'anno per andare a fare dei giri in montagna il prodotto che andremo a testare oggi si chiama anche le easy rv 800 plus un nome un pochino complicato per un marchio che però ve lo posso anticipare fin da subito produce delle biciclette che sono spettacolari sicuramente non sono economiche perché parliamo di un prodotto che viene venduto a circa 2400 euro poi con qualche sconto lo portate a casa con qualche centinaio di euro in meno ma stiamo parlando di prodotti veramente top di gamma sotto tutti i punti di vista ma non voglio anticiparvi troppo quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il test approfondito di questa bicicletta spettacolare prima di procedere come al solito piccolo disclaimer il prodotto me l'ha inviato l'azienda per una recensione ma come sapete io vi dico sempre quello che penso perché non vi devo vendere niente se un prodotto mi piace ve lo dico se non mi piace ve lo dico allo stesso modo detto questo come di consueto iniziamo a vedere i materiali e il design di questa bicicletta senza alcun dubbio la rv 800 plus è una delle bici elettriche più belle che abbia mai visto un prodotto che fa girare la testa a chiunque la incontri per strada nel mio piccolo paese di 6.000 abitanti mi hanno fermato almeno in 5 o 6 persone sconosciute per chiedermi informazioni sulla bici parlando di assemblaggio e qualità dei materiali la bici è realizzata con un'incredibile cura e di nuovo è una delle migliori bici che abbia mai provato è tranquillamente paragonabile a prodotti di brand come scott canyon olimpia cannondale e specialized questa fatbike non ha niente in comune con tutte le altre e bike cinesi che possiamo acquistare online segnalo anche che tutti i materiali utilizzati sono stati prodotti da aziende molto note nel settore che producono per altri marchi top di gamma il motore ad esempio è un bafang la batteria una samsung il manubrio il tubo sella e i freni e le leve della zoom quando guardiamo questa rv 800 plus la prima cosa che attira la nostra attenzione sono le enormi gomme da 26 pollici con una larghezza di quasi 10 centimetri che la rendono più simile a una moto da cross che una bici elettrica bellissimi anche gli inserti arancioni all'interno della ruota che richiamano direttamente il telaio così come la scritta bianca che risalta dalla spalla del copertone dopo le ruote passiamo sicuramente a guardare il telaio realizzato in alluminio 60 61 è davvero super resistente in grado di portare fino a 200 kg questo le permette di essere più robusta e leggera di alcuni concorrenti diretti tutte le saldature sul telaio sono incredibilmente curate la vernice è di alta qualità e la copiata di colori arancione e nero rende questa bici molto sportiva e aggressiva come piace a me di nuovo la cura nei materiali e nell'assemblaggio di questa rv 800 plus è davvero maniacale non è un prodotto economico e si vede benissimo la sua qualità dopo il telaio la nostra attenzione ricade sugli ammortizzatori qui ne abbiamo uno centrale e due nella forcella anteriore tutti con molla ad olio regolabile per migliorare il comfort e personalizzare l'esperienza di guida la batteria invece quasi non si vede è posizionata sotto la canna e perfettamente incastrata nel telaio l'azienda ha fatto veramente un ottimo lavoro per renderla meno visibile e più sicura possibile non fosse per l'ingresso per le chiavi e il cavo di ricarica non si vedrebbe parlando di certificazioni la bici è ip54 quindi resiste ad acqua e polvere sul manubrio troviamo poi le leve dei freni in metallo le comodissime manopole in gomma il regolatore del cambio shimano altus a 7 rapporti una manopola che funge da acceleratore un grosso display lcd a colori i pulsanti che ci permettono di accendere o spegnere la bici e di controllare la velocità o accendere il fanale tra gli altri aspetti da segnalare abbiamo degli ottimi pedali in lega di alluminio che restituiscono un fantastico grip un enorme fanale anteriore da 4.5 pollici con una gabbia che lo protegge da eventuali sassi o rami due parafanghi sottili ma robusti che ci proteggono da acqua e fango un cavalletto laterale molto solido e robusto che sostiene la bicicletta senza alcun problema e in massima sicurezza per finire abbiamo il sellino che è incredibilmente largo morbido e molto comodo al contrario di tutte le bici che ho provato fino ad oggi possiamo usarlo per ore e ore senza sentire alcun fastidio e attutisce perfettamente tutte le asperità della strada e passiamo adesso a parlare del montaggio un aspetto sempre molto particolare quando parliamo di biciclette comprate online chiaramente la bici almeno in parte arriva smontata e serviranno circa 30 minuti per montarla la procedura è comunque facilissima è tutto spiegato nelle istruzioni e di questi 30 minuti la maggior parte servirà soprattutto per togliere gli imballaggi che sono veramente super completi e servono appunto per proteggere la bici durante il trasporto alla fine infatti dovremo limitarci a montare i pedali la ruota anteriore i parafanghi e il fanale poi ci sarà chiaramente da regolare il sellino e da girare e stringere il manubrio operazioni veramente molto semplici anche se consiglio di essere in due perché la bicicletta è un po' pesante quindi una mano aggiuntiva farà sicuramente comodo da segnalare tra l'altro che nella confezione abbiamo il kit per il montaggio un piccolo catenaccio da attaccare direttamente al tubo del sellino per evitare che ci rubino la bici e una piccola pompa da usare in caso di emergenza è infatti troppo piccola per gonfiare le sue enormi ruote ma passiamo alla ciccia di questa recensione e quindi parliamo di performance piacere di guida e motore la rv 800 plus monta un motore bafang da 750 watt con un picco da 1130 installato nella parte posteriore della bici in grado di fornire una coppia da 70 newton metro e che chiaramente rappresenta uno dei più potenti sul mercato manca il sensore di coppia ma è presente quello di pedalata che rende il motore estremamente preciso e reattivo e gli permette di lavorare alla perfezione in qualsiasi situazione sia in pianura che in salita il fatto che il motore sia posteriore e non centrale inoltre garantisce maggiore spinta e maggiore velocità e quindi più divertimento con tutta questa potenza il motore elettrico interviene sempre anche se abbiamo inserito la marcia sbagliata e nonostante i 35 kg di peso della bici questo motore è veramente molto equilibrato e risulta perfetto per spostarsi in città campagna collina e anche montagna inoltre garantisce un'autonomia incredibile e soprattutto permette di annullare qualsiasi tipo di fatica durante le nostre pedalate le performance sono più che soddisfacenti ed è possibile regolare facilmente la potenza della pedalata assistita usando 5 livelli e il controllo nella parte di sinistra del manubrio nello specifico possiamo scegliere la potenza del motore al 20 per cento che arriva circa 13 chilometri orari al 40 per cento che arriva a 15 al 60 per cento che arriva a 18 all'ottanta per cento che arriva a 20 e al 100 per cento che arriva a 25 chilometri orari oltre alla velocità cambiando il livello di assistenza aumenta anche la coppia e quindi la spinta del motore nei miei giri in paese in pianura l'ho sempre usata a livello 3 o 4 senza mai fare alcuna fatica e pedalando con estremo piacere e leggerezza di base per legge dopo i 25 chilometri orari il motore spegne l'assistenza volendo però possiamo sbloccare facilmente il motore per portarlo fino a 50 chilometri orari e sfruttare tutta la sua potenza attenzione però perché in questo caso la bicicletta non si può più utilizzare su strada ma solo su strade private chiaramente oltre alla pedalata assistita possiamo attivare anche la modalità camminata che si aiuta a spingere la bici quando ci troviamo in zone pedonali ad esempio oppure in salita nei test che ho fatto sono riuscito a raggiungere anche la massima velocità con poche pedalate e senza sforzi accompagnato dal motore che entra in funzione gradualmente ma sempre in modo molto preciso e reattivo nessun problema nemmeno nelle salite comprese quelle al 15 o 20 per cento o in partenza da fermo anche le pendenze più importanti vengono gestite benissimo e senza alcuna incertezza ma soprattutto senza alcuno sforzo da parte nostra parlando di posizione di guida è simile a quella da enduro downhill siamo molto seduti in sella e con un busto eretto non troppo piegato in avanti di nuovo guidare questa bicicletta è un vero piacere personalmente mi sono trovato davvero benissimo a guidarla tanto che non la uso soltanto per le escursioni o i giri lunghi ma anche per gli spostamenti in paese visto che è comodissima e soprattutto mi permette di ammortizzare alla perfezione tutte le buche e le altre asperità dell'asfalto e passiamo adesso ad analizzare il suo display lo schermo lcd a colori posizionato al centro del manubrio è grande e ben visibile anche se sotto alla luce diretta del sole soffre di qualche riflesso di troppo ci permette comunque di vedere tutte le informazioni importanti come velocità potenza del motore stato di carica della batteria chilometri parziali e totali accensione o spegnimento della bici eventuali problemi modalità walk sulla parte sinistra del manubrio invece troviamo i vari pulsanti che ci permettono di controllare la bici e ad esempio di accendere o spegnere i fanali di spostarci all'interno dei menu di aumentare o diminuire la potenza del motore ed eventualmente anche di sbloccare il suo motore per arrivare a 50 km orari in generale i pulsanti sono molto comodi da premere e molto precisi e passiamo invece adesso a parlare di ruote e ammortizzatori due aspetti veramente incredibili di questa bicicletta che la rendono sicuramente unica come anticipato la bici monta ruote da 26 pollici molto spesse e tassellate sono perfette per qualsiasi tipo di terreno asfalto san pietrini ghiaia fango sterrato montagna sabbia o addirittura neve niente la può mettere in difficoltà chiaramente queste grandi ruote si integrano alla perfezione con il telaio sportivo della bici e dopo averla stressata a fondo posso dire di averle adorate le gomme unite alle ottime performance del motore e agli incredibili ammortizzatori rendono godibile ogni passeggiata su qualsiasi tipo di terreno e non ci fanno sentire nessuna buca asperità o dosso sarà veramente come viaggiare in prima classe nel massimo comfort segnalo inoltre che al contrario di tanti concorrenti in questa bici abbiamo dei perni passanti sulle ruote che la rendono più scorrevole rispetto a quelle più economiche parlando invece degli ammortizzatori questa rv800 plus monta una forcella idraulica anteriore a doppia piastra con molle ad olio che le permette di essere più rigida e stabile ci garantisce un migliore e più preciso ingresso in curva e ammortizza meglio tutti gli ostacoli è possibile bloccare la forcella e anche precaricarla assorbe le buche anche quelle più profonde incredibilmente bene c'è poi un ammortizzatore centrale anch'esso con molla ad olio che può essere bloccato o sbloccato e sul quale possiamo anche regolare la pressione dell'olio interno insomma come ho già detto e ribadisco l'esperienza di guida di questa bicicletta è davvero piacevole stabile e sicura senza dubbio una delle migliori che abbia mai provato e passiamo adesso a parlare del cambio e dei freni altri due aspetti che sono veramente al top su questa bici questa fat bike è infatti dotata di freno a disco anteriore e posteriore di tipo idraulico da 180 mm un sistema che garantisce frenate e controllo perfetti anche in condizioni difficili non scherzo quando dico che sembrano i freni della mia moto sia per dimensioni che per efficienza nella prova su strada i freni mi sono sempre sembrati ottimi affidabili e modulabili con le pastiglie che hanno un'ottima presa sul disco e permettono una frenata in sicurezza in breve spazio anche ad alte velocità o in discesa posso affermare senza problemi che siano i migliori che abbia mai provato su una bicicletta altri plus da segnalare sono sicuramente il fatto che le maniglie sono realizzate in un ottimo metallo i freni non hanno mai fischiato al contrario di tanti altri concorrenti e sono già regolati di fabbrica e quindi non hanno bisogno di altre regolazioni che comunque siamo liberi di effettuare in caso di necessità chiaramente poi sui freni c'è un sensore dedicato power off che va a spegnere il motore non appena li andiamo a sfiorare per la massima sicurezza per quanto riguarda il cambio invece abbiamo uno shimano altus a 7 rapporti monocorona le regolazioni sul manubrio sono di ottima qualità così come durante l'utilizzo il cambio è veloce estremamente preciso unico appunto forse un paio di corone in più sarebbero state comode e ci avrebbero permesso di sfruttare meglio la bici soprattutto nelle salite più impegnative ripeto stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo però perché nel mio utilizzo non ho avuto nessun tipo di problema chiaramente sulla bicicletta sono presenti luci e fanali ma soltanto anteriori perché purtroppo manca un fanale posteriore fortunatamente quello anteriore è veramente incredibile la bici monta infatti una potentissima luce frontale da 4.5 pollici perfetta per illuminare la strada di notte e per farci vedere quando pedaliamo al buio fa una luce veramente incredibile ma senza bagliare nessuno inoltre come abbiamo visto è protetta da una gabbia per evitare che sassi o rami la rompono mentre siamo su percorsi sterrati ecco non vi nascondo che una luce così grossa associata a gomme così larghe e un telaio così importante ha mandato in confusione molte persone che mi hanno visto girare in paese e hanno pensato che stessi usando una moto da cross piuttosto che una bici elettrica e sinceramente la cosa mi ha molto divertito come abbiamo detto non c'è una luce posteriore ma fortunatamente sono presenti i catarei frangenti sui fanali e quando parliamo di una bicicletta elettrica chiaramente l'ultimo aspetto da analizzare è la batteria e la sua autonomia che come sappiamo però è un aspetto estremamente variabile perché dipende da tantissime condizioni e dalle modalità di utilizzo quello che vi posso dire è che questa bici monta una batteria samsung quindi altissima qualità 21.700 da 48 volt 20 ampere secondo l'azienda dovrebbe garantire tra i 120 e i 150 chilometri di autonomia in modalità pedalata assistita mentre passiamo a 60 70 chilometri in modalità elettrica io ho fatto varie prove e vi posso garantire che in tutti i casi questa autonomia è davvero sorprendente utilizzando la bici in pianura con qualche salettina leggera in modalità 3 4 o 5 sono sempre arrivato almeno a 100 chilometri a volte anche 110 io sono alto 1 e 79 e peso quasi 90 chili quindi non sono proprio leggerissimo penso quindi che questa bicicletta sia in grado di garantire un'autonomia veramente eccezionale in qualsiasi situazione o ambito d'uso ed è perfetta anche per fare qualche giro in fuoristrada qualche gita fuori porta o anche per l'utilizzo in collina o montagna al tempo stesso però volendo possiamo tranquillamente usarla per spostarci in città potendo contare su di un'autonomia veramente incredibile chiaramente una batteria così capiente richiede un po di tempo per la ricarica stiamo parlando di circa 6 o 7 ore fortunatamente possiamo scegliere se caricare la batteria direttamente sulla bicicletta o se staccarla e portarcela magari a casa o in ufficio tra l'altro faccio notare che sulla batteria è presente un comodo indicatore led che ci permette di conoscerne sempre l'autonomia chiaramente poi l'autonomia la possiamo vedere anche dal display della bicicletta e come di consueto prima delle conclusioni arriviamo a parlare del prezzo anche se in realtà ve l'ho già anticipato di default questa bicicletta costa 2500 euro sul sito ufficiale chiaramente il link ve lo lascio qua sotto attualmente costa 2400 poi ci sono sempre nella pagina di acquisto alcuni coupon che vi fanno risparmiare altri 100 o 200 euro stiamo parlando in generale di un prezzo attorno ai 2300 2400 euro per una bicicletta che come abbiamo visto è un top di gamma e dopo il prezzo come di consueto arriviamo alle conclusioni cosa ne penso di questa bicicletta senza troppi giri di parole penso che sia una delle migliori oggi in commercio un prodotto che sicuramente mi ha sorpreso convinto ma soprattutto mi ha divertito tantissimo nel suo utilizzo non dico che sia un prodotto perfetto ma ci andiamo veramente molto vicino perché offre un rapporto qualità prezzo incredibile ha infatti degli ottimi materiali design e assemblaggio a dei freni idraulici grandi potenti e affidabili ha delle sospensioni frontali e centrali che ammortizzano di tutto ha un sellino e una posizione di guida incredibilmente comoda non solo per la città ma anche per la montagna per la collina e per il fuoristrada ha un motore potentissimo con una coppia elevatissima e che garantisce prestazioni incredibili senza dimenticare che poi lo possiamo anche sbloccare per arrivare a 50 km all'ora ha un'autonomia infinita ha un cambio affidabile rapido e preciso e ha delle ruote enormi e perfette per qualsiasi terreno come abbiamo visto non costa poco ma questa bicicletta sprizza qualità sicurezza e affidabilità da ogni singola saldatura e da ogni raggio delle sue ruote di nuovo ragazzi non vi mento se vi dico che questa bicicletta non solo mi è piaciuta ma mi ha proprio divertito nel guidarla concludo dicendo che ci sono tre anni di garanzia sulla bicicletta per qualsiasi problema l'azienda risponde direttamente e velocemente e la spedizione richiede circa 3 barra 10 giorni effettivi non lavorativi dal momento in cui completate l'ordine arriva dall'europa quindi non ci sono costi doganali da sostenere io ragazzi con questa recensione ho concluso spero che vi sia piaciuta o stata utile in questo caso fatemela sapere con un like a voi non costa nulla ma per me è fondamentale per continuare a far crescere questo canale e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video se avete un qualsiasi dubbio o domanda fatevi sentire qua sotto nei commenti come sapete io rispondo a tutti il prima possibile io vi ringrazio di nuovo per la visione e vi do appuntamento al prossimo video un saluto da riccardo ciao